Federico Mancarella, tanti bambini in questo incontro alla scuola Don Borogno Cesena e tanti insegnamenti, uno su tutti, non basarsi sull'apparenta ma sui valori. Per me è un piacere e un onore, i ragazzi sono carichissimi, è stata un'accoglienza fantastica, cosa che io non ho mai ricevuto. È un piacere per me essere qua anche perché i ragazzi per me sono il futuro, sono cultura e bisogna partire da queste basi per poter poi iniziare lentamente a creare una vita sana, dei principi sani e cercare di poter andare avanti poi anche con i propri obiettivi. L'apparenza è qualcosa che sfortunatamente a volte ci ferma ma quando riesci a dare quel morsa, quella torta che ti piace e vuoi scoprire la ricetta dopo riesci a trovare delle combinazioni e delle sfaccettature che non immagineresti neanche. Guardando il tuo palmarès, ripercorriamolo un attimo, mondiali nel 2019 in Ungheria con un secondo posto, poi l'Olimpiade a Tokyo con il terzo posto e poi infine gli europei 2022 di qualche mese fa con appunto la medaglia d'oro. Qual è il successo più bello? Il successo più bello sicuramente a livello proprio di gara è stata la Paralimpiade di Tokyo. In tutte le gare che ho fatto comunque ho delle sensazioni e delle emozioni diverse. L'anno di 2019 di Zeged è stato un po' l'anno della mia rivincita, quest'anno è stato l'anno della conferma, nonostante le motivazioni fossero un pochino meno rispetto comunque agli anni precedenti, ma considerando anche il fatto che dopo un quinquienno molto lungo per preparare un'Olimpiade abbiamo cercato di gestire un po' anche la testa. Stiamo tornati a fare comunque adesso la preparazione invernale col mio natore Gianni Anderlini e l'obiettivo prossimo stagionale imminente è sicuramente la qualifica paralimpica per Parigi 2024 e i primi pass verranno staccati al mondiale di qualifica a Duisburg a fine ad agosto.